Amici di Made in Vino, ciao, siamo qui con Cristian, ciao, ciao, per assaggiare un altro buon vino. Oggi assaggiamo il Cdc, che è un vino del 2011 dell'azienda Cristo di Campobello, siciliano, è un blend di diversi litigni, c'è il Nero d'Avole in prevalenza, Syrah Merlot e Caverne Sauvignon. Andiamo a vedere la degustazione. Andiamo, direi subito un bel rosso rubino intenso, un colore bellissimo tra l'altro, ha riflesso anche un po' porpora del vino nuovo quasi. Sì, un po' porpora, comunque limpido, direi consistente. Assolutamente sì. Beh qui è proprio intenso, ragazzi. Ragazzi, non perdiamoci questo vino meraviglioso, intenso, persistente direi. Ai tratti del vino nuovo, ai tratti come dicevo, del vino nuovo, a questa spezia, il pepe, la liquirizia che vengono tantissimo fuori. Molto. Assaggiamolo, assaggiamolo, ricorda un po' quello che ci siamo trovati in bocca. Beh sì, direi che è complesso, in bocca è una meraviglia, già da qualche secondo aperto comincia la sua trasformazione. La speziatura si ritrova subito, ha questi frutti anche sotto spirito, ha del cioccolato fondente, il vino tra l'altro Oscar del Gamblo Rosso, un ottimo rapporto qualità presto, ma ce lo merita tutti insomma, è un vino veramente interessante. Sì, direi che la temperatura di silizio è 12-14 gradi, e poi potremmo abbinarlo ad un primo ripieno con che sugo? Beh, qui possiamo tranquillamente anche con del ragù, con della cacciagione anche come secondo, carne rosso, c'è una meraviglia, il terreno, io volevo fare i complimenti a questa azienda che lavora veramente bene, è un'azienda relativamente giovane ma con ottimi risultati. Ottimo. Grazie per averci seguito. Profumo della Sicilia, c'è la cina. Grazie.